Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi un video diverso dal solito, infatti trattiamo un argomento che non si vede tanto sul mio canale. Ossia parliamo un po' di come gestire il market crash che ci sarà sicuramente e come avete magari visto è anche già iniziato in parte con l'uscita dei Toti. Quindi di fatti abbiamo visto come negli anni questo sia il periodo nel quale le carte iniziano a crollare inesorabilmente a picco, quindi sono iniziate le classiche domande. Mi conviene vendere la mia squadra e poi ricomprarla eccetera eccetera per guadagnarci i crediti. Vi dirò un po' come la mia con quella che è l'esperienza che ho acquisito, ovviamente non sono un espertissimo di compravendita, infatti lungi da me parlare di compravendita. Però cercheremo di andare ad analizzare un po' di situazioni date alla mano. Quindi senza perdere ulteriore tempo direi di passare sulla schermata immediatamente. E ho preparato qui come prima immagine quello che è stato l'articolo dell'anno scorso che parlava appunto dei Toti che sono stati rilasciati il 6 gennaio con gli attaccanti eccetera eccetera. Vi ricorderete che l'anno scorso è stata introdotta un'altra carta che è quella dei candidati Toti perché come sapete i Toti iniziano con una votazione, vengono dati in pasto alla community i migliori giocatori che vengono appunto votati e quelli che vengono maggiormente selezionati agli utenti poi hanno un peso anche in quelle che sono le scelte da parte di Electronic Arts. Quindi candidati Toti che in teoria dovrebbero uscire a breve perché di fatti la squadra definitiva dovrebbe uscire nelle prime due settimane di gennaio. Solitamente a differenza delle altre promo i Toti escono di lunedì. Quindi a gennaio molto rapidamente come lunedì abbiamo il 4 e l'11. Quindi io credo che sicuramente per una di queste due date la promo inizierà quindi io mi aspetto una schermata con i candidati Toti anche per fine di questa settimana. Probabilmente potrebbe potrebbe succedere e non me ne stupirei. Quali effetti produrrebbe l'uscita della schermata sul mercato? In particolare sulle carte che magari vi interessano un po' di più ovvero vari Ronaldo, Mbappene, Mar, eccetera che come potete vedere ho già preparato per farvi un raffronto. Beh sicuramente questa è la promo che li porta a calare, li porta a calare inesorabilmente verso poi quello che è un lento tracollo fino a fine stagione. Perché ormai, raga a partire dall'anno scorso abbiamo visto come praticamente esce una promo a settimana. Quindi andiamo incontro a spacchettamenti continui che appunto vanno ad abbassare il prezzo delle carte eccetera eccetera eccetera. Però sebbene quegli spacchettamenti lì solitamente impattano le carte un po' più medie del meta rispetto a quelle top che cercano di mantenere più o meno sempre il loro prezzo, il crash dei Toti va a influenzare anche queste qui. Difatti come potessimo vedere ad esempio il buon Neymar attualmente costa 700.000 crediti su PS e 569 su Xbox quindi ha iniziato già a droppare. Potete vedere che ad esempio il 24 a Natale costava praticamente 100k in più su PS e un 40k in più su Xbox. Questo perché la gente sta iniziando quel periodo di panic selling ovvero di vendita sconsiderata perché teme di andare a perdere i crediti ma questo poi ci dedicheremo un'altra parte del video. Andando a fare un raffronto con il Neymar dell'anno scorso possiamo vedere che Neymar nelle stesse date quindi 24 dicembre costava un cinquantino in più e un centinaio in più su Xbox. Poi con l'annuncio dei candidati Toti vedete che c'è stato un tracollo, poi c'è stata una levissima fase di risalita e nel momento in cui sono usciti poi effettivamente Toti tra 5 e 6 c'è stato il momento più basso sul mercato. Per poi avere classiche oscillazioni di salita e discesa, salita e discesa, salita e discesa che dipendono anche poi dalle varie weekend league eccetera eccetera eccetera. Perché sempre dopo ogni crash le carte soprattutto di questo tipo hanno un lieve rialzo. Quindi la domanda che spesso mi viene posta ossia ma scenderanno, caleranno bla 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 quindi lo devo vendere? No, non lo dovete vendere per me necessariamente perché è vero che ora magari sta perdendo un po' di prezzo ma perché è inevitabile visto che si avvicinano ai Toti. Ma passato l'hype per i Toti la carta un minimo si rialzerà. Andiamo a vedere per esempio Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo il quale attualmente costa 1.085.000 su PS, 800.000, quasi 900.000 su Xbox. Vedete come Cristiano, anche lui, abbia iniziato questa fase di discesa, al 24 stava 1.200.000 su PS e 900k su Xbox e piano piano si è iniziato a discendere sempre più. Facciamo il confronto con quella che è la carta dell'anno scorso. Ronaldo, di fatti, a Natale, 24 dicembre, costava 950.000 su PS e 856.000 su Xbox. Vedete che poi con l'arrivo dei vari candidati Toti e con l'effettiva uscita della promo tra 5 e 6 gennaio ha toccato il suo punto più basso. E' sceso 800.000 su PS e 700k su Xbox per poi lievemente risalire. Vedete ha avuto poi una fase abbastanza stazionaria. Poi mano a mano che il gioco andava in fase calante, più uscivano carte, più uscivano carte, più uscivano carte, è iniziato a scendere. Vedete, verso marzo, piano piano sono iniziati ad uscire i vari Tots, eccetera, 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 fino al crollo. Stessa cosa è avvenuta anche al buon Killian, che al momento costa 9.25 su PS e 7.48 su Xbox. Vedete come il 24 invece stava 1.020.000 su PS e 800k su Xbox. Come l'anno scorso è caduta esattamente la stessa cosa. Vedete come il 24 dicembre la quarta stava 760 e 670 all'uscita poi effettiva dei Tots e ha perso quegli altri 100k. Per poi risalire, raga, immediatamente dopo la promo. Quindi la domanda che spesso mi viene posta, ossia mi conviene vendere la squadra e poi ricomprarla quando escono i Toti. La domanda, per carità, ci può stare, è lecita, ma la risposta per me è no. No, innanzitutto, perché posso capire il non voler crediti. Ma raga, i crediti, bene e normale, li perdiamo tutti. Cioè, più andiamo avanti nel gioco, i crediti si perdono inesorabilmente. Cioè, io personalmente ne ho persi tantissimi sui vari Ronaldo, eccetera, eccetera. Ma non mi sognerei mai di venderli. A, perché sono forti. B, perché comunque ci devo competere. C, perché, vi ripeto, i crediti così come si perdono, si rifanno. Basta una weekend league, una sculata, un po' di compra e vendita fatta bene. Quindi, questo panico che prende la maggior parte dell'utenza nel momento in cui si avvicinano promo di questo tipo, è totalmente ingiustificato. Perché, dopo una fase di discesa, c'è sempre una fase di risalita, fino a quando il gioco regge la sua fase di vita. E poi, soprattutto, con tutte queste promo che escono, è pieno zeppo di oscillazioni il mercato. Quindi, per poter stare al passo, vendere e comprare, vendere e comprare, bisognerebbe veramente star lì a buttarci tempo e sudore. Oltre che, vi ripeto, i crediti li andreste comunque a perdere prima o poi. Inoltre, un'altra questione che non va assolutamente sottovalutata è relativa al fatto che durante questi periodi, comunque, ogni tanto, spesso e volentieri, escono delle SBC che vanno comunque un po' a bilanciare quello che è il mercato per non farlo calare troppo. Ricorderete, per esempio, l'anno scorso il buon Marcello Flashback che uscì e, di conseguenza, andò un pochino a ristabilire le gerarchie sotto questo punto di vista. Quindi, raga, io il consiglio che vi posso dare è quello di non farvi prendere dal panico, anche perché spesso e volentieri, quando vendete una carta, ok, sì, pretoti, la vendete a un certo prezzo, poi la ricomprate, ma in realtà pensate di aver fatto un risparmio, ma in realtà state semplicemente andando a recuperare le tasse che avete perso sulla vendita che avete fatto. Quindi, molto, molto relativa, secondo me, la questione. Non ha senso vendere e ricomprare. Se volete vendere bene, magari mettete tutto in cambusa e provate a prendere le carte che vi interessano durante il periodo dei toti. Però, per me, vendere una carta e ricomprarla la stessa non ha questo grandissimo senso. E se avete delle carte, non avete paura di perderci i crediti, perché, vi ripeto, lo faremo tutti. E il mercato è fatto continuamente di sali e scendi, perché, raga, il mercato di foot è come se fosse un mercato vero. Quindi vive di fasi, di salite e discese, in base a quella che è la domanda e l'offerta. Quindi è chiaro che se ci sono tante carte che vengono messe sul mercato, la domanda magari è alta, ma anche l'offerta è alta, e quindi i prezzi rimangono quelli. Momenti in cui c'è meno spacchettamento, quindi l'offerta è bassa, la domanda è alta, e quindi è chiaro che i prezzi aumentano. Vi ritrovate con me, piccole nozioni proprio di economia spiccia, non ci da me essere il Marx della situazione. Quindi, raga, per questo video è tutto, mi raccomando, non mi panicate, tenete bene saldi i vostri nervi in questo periodo, non fate mosse del secolo, mi raccomando. Vi ricordo di lasciare un like al video, di commentare, se già avete fatto pazzie. Iscrivetevi al canale che stiamo andando alla grande, mi fa super piacere. Per tutte le live giornaliere trovate le info in descrizione, e a me non resta altro che salutarvi, augurarvi buone fatte feste, anche se già ve le ho fatte, e noi ci vediamo con un prossimo video domani. Ciao ragazzi!